Allora ragazzi buongiorno, buongiorno, buongiornissimo, buon sabato, questa sera c'è l'estrazione, noi ci vediamo sempre nel primo pomeriggio, intanto vi do una previsione al 5 minuti. I numeri sono questi, chi può se li segni, allora le ambate principali sono 21 e 22, gli abbinamenti sono 29, 24, 9 e 90, chi può e si trova ricevitoria, mi raccomando chi può anche extra, va bene? Ragazzi bacioni, vado a fare altre commissioni come al solito, ci vediamo più tardi nel primo pomeriggio, d'accordo? Bacioni a tutti e a fra poco, ciao!